Come squadra ci siamo dati quota 45 punti, credo che sia un obiettivo che possiamo raggiungere perché vista anche l'ultima partita che abbiamo fatto ce la possiamo giocare con tutte le squadre che sia il Pescara, che comunque è una grande squadra, però abbiamo dimostrato sul campo che ce la possiamo giocare, anzi a volte abbiamo avuto anche delle occasioni importanti quindi la nostra quota per noi è quella, poi se facciamo di più ben venga, però ci siamo prefissati per quella quota lì La vittoria di fermo è stata molto importante per il gruppo e abbiamo continuato con il pareggio con il Pescara che è un risultato importantissimo, noi come gruppo cerchiamo sempre di dare il massimo poi ci sono partite che ci riusciamo, altre che ci riusciamo un po' meno però credo che seguiamo tutti la stessa strada, nessuno si tira mai indietro anche se a volte ci sono degli acciacchi fisici, dei problemi, nessuno si è mai tirato indietro quindi credo che questa sia la cosa più importante e l'unione sta facendo la differenza all'interno dello spogliatoio